ciao benvenuti a tutti fanciulli e fanciulle andiamo a vedere oggi con le nostre efemeridi con l'astrologia andiamo a vedere l'oroscopo per il mese di novembre 2023 quindi andremo a studiare il cielo del mese ok vedremo un po le linee generali generiche studieremo poi l'oroscopo appunto per il tuo segno zodiacale dopodiché andrò ad interrogare anche le mie carte in special modo insomma i miei tarocchi per andare scendere un pochino più nei dettagli nei particolari di quello che sarà il tuo mese di novembre quindi una prima introduzione andiamo a vedere il cielo di novembre e poi vedremo il tuo segno zodiacale nello specifico va bene allora novembre novembre è un cielo un po particolare l'ho scritto anche nella community un po mi spaventa la fine del mese di ottobre vede insomma dei movimenti planetari a livello mondiale un po un po pesantini così come anche la metà circa del mese di novembre ma quello è un altro discorso mandiamo tutti energia positiva vi prego perché il cielo un po è un po cattivo un po insomma un po si e purtroppo i tg parlano chiaro ma detto questo chiusa la parentesi allora novembre novembre vede il sole che dallo scorpione entra in sagittario ma questo è pure normale plutone continua a camminare in capricorno poi a gennaio uscirà definitivamente dal capricorno ed entrerà in modo definitivo per i prossimi vent'anni entrerà nel segno dell'acquario nettuno ancora cammina in pesci giove urano sono entrambi nel toro saturno i primi di novembre torna con il moto diretto nel segno dei pesci e poi i pianeti quelli più veloci mercurio dallo scorpione entrerà nel segno del sagittario venere dalla vergine entra in bilancia e marte si farà quasi tutto il mese di novembre nello scorpione ed entrerà anche lui in sagittario il giorno 25 24 insomma via fra il 24 e il 25 di novembre ok questo cosa significa allora come ho detto qui ci possono essere dei momenti abbastanza forti mettiamola così prove di forza anche a livello proprio nostro personale molto genericamente parlando insomma l'aria che tira l'aria che tira è quella quindi episodi di gelosia di possessività intesa anche proprio come un qualcosa come ti posso dire poi lo vedremo a livello personale che cosa questo può voler dire va bene però il tema è mio no è mio ma è tuo è nostro no ma è mio voglio io mio mio sarà all'ordine del giorno secondo me quindi magari se sei in coppia discorsi relativi alla gelosia se invece non sei in coppia o non ti riguarda qui si può parlare anche appunto di un passami termini litigio poi andiamo a vedere a livello personale lo ripeto comunque di un qualcosa a livello solo la casa l'eredità scontri su ciò che è mio e ciò che invece è tuo ok ciò che è da condividere ciò che invece voglio solo per me si può parlare di una casa di denaro si può parlare di lavoro insomma il tema che io vedo modestamente parlando poi magari sbaglio per l'amor di dio ma le stelle di questo mi di questo mi parlano anche un discorso proprio come stavo dicendo di denaro anche il denaro è un possedimento è un possedere è un avere è un avere qualche cosa va bene cos'altro mi dico novembre è però anche ho cambiato la candela ho visto che era finita è anche il mese dei compromessi della diplomazia del parlare ripeto rapportate tutto alla vostra vita personale ok del parlare quindi senz'altro qui c'è un attore qualcuno che entra in mezzo e che cerca rimediare vedi un po nella sua vita ovviamente di che cosa di che cosa ti possono parlare queste queste stelle poi vediamo il tuo segno zodiacale una cosa che vi raccomando sempre di guardare l'oroscopo per il vostro segno ma anche per quello del vostro ascendente è importantissimo e l'oroscopo del segno in cui hai la luna quindi se sei nata con la luna in gemelli devi guardare anche l'oroscopo dei gemelli che è molto molto importante anch'esso va bene quindi sicuramente questo diciamo che la seconda parte del mese con l'entrata di venere in bilancia e poi con quella di mercurio in sagittario qui vedo veramente un qualcuno di estraneo di straniero qualcuno di lontano che potrebbe entrare in scena in questo litigio anche a livello mondiale sto parlando ovviamente in questo litigio per cercare di mediare di parlare c'è sempre quell'aura un po un po del ce l'ho più duro io il cervello ok quindi del mio tuo ecco diciamo vedremo dei momenti un pochino pesanti però insomma confido voglio credere anche in questo mercurio in sagittario poi anche marte entrerà in sagittario comunque diciamo che qui il mese di novembre vedrà entrare in scena parecchia gente in una questione come ti ho detto di di spartizione di qualcosa che sia ad una coppia che dice la gelosia che sia di denaro e mio che sia di confini territoriali e quant'altro comunque detto questo io direi di andare a vedere il tuo segno zodiacale nello specifico vediamo che cosa ti raccontano e poi interrogheremo anche le carte va bene andiamo a vedere ok caro scorpione per te questo cielo cosa comporta poi ora vediamo anche le carte interroghiamo anche i tarocchi allora la prima cosa mi sento sicuramente sei chiamato in causa come e forse più di altri segni zodiacali va bene quindi tutto il tema che abbiamo di cui abbiamo parlato nell'introduzione insomma ti riguarda assai ti riguarda molto quindi questo riscontro è mio questo discorso è mio il tuo il sono qui vorrei essere la sono la vorrei essere qua ti riguarda molto anche qualcuno e tu potresti avere di lontano da te non so se tu hai dei parenti degli amici degli affetti degli affetti lontani magari il mese di novembre sentirai in modo più forte no diciamo così questa questo distacco questa lontananza questo desiderio di avere la persona magari vicina o viceversa se te tutt'è c'è la vicina desiderio d'averla un pochino più lontana insomma a parte a parte queste cose ti vedo molto combattivo molto determinato molto bello quindi per lo scorpione o marte è entrato che cammina che è nel segno zodiale insomma diciamo ti dona quella bella grinta quella bella determinazione decisione va bene essendo poi marte lo scorpione facente parte diciamo così del regno passami termine di marte lo scorpione va bene cos'altro guarda qui vedo una o un'associazione femminile un gruppo femminile delle donne una donna in particolare con cui diciamo tu trascorrerai dei momenti tu avrai più a che fare diciamo no nel mese di nel mese di novembre magari un'amica in particolare o delle amiche o come ti stavo dicendo un'associazione femminile un gruppo femminile di un qualche tipo con cui tu farai sicuramente qualcosa in questo mese di in questo mese di novembre quello che vedo occhio nei rapporti nelle relazioni nei rapporti non sono i matrimoni comunque relazioni in genere perché ci potrebbe essere un periodo un pochino teso da questo punto di vista ne abbiamo parlato nell'introduzione no vuoi la gelosia vuoi questo sentimento di ciò che è mio ciò che è tuo tu sei roba mia ma anche no insomma tutte cose di questo tipo e di conseguenza anche un discorso proprio economico di denaro e di possesso quindi questo spartirsi un qualche cosa non so come meglio come meglio spiegarsi lo sentirai molto forte quello che è mio non lo devi toccare con qualcosa di questo qualcosa di questo tipo vedete in che ambito qui siamo troppo in generico in generale per andare troppo a fondo nei particolari e poi insomma qui ci sono degli amori delle passioni dei sogni dei voli pindarici che potremmo anche fare non escludo proprio un qualcuno di vecchio un qualcuno di vecchio che potremmo rivedere in un qualche modo risentire anche in modo abbastanza così romantico guarda c'è qualche scorpione che potrebbe decidere anche di andare in mare lo so che di freddo 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 no sinceramente però insomma ci sta è che qualche scorpioncino fa faccia qualche viaggio verso un so il mare un lago ma vediamo gli oracoli cosa hanno da dire volume 3 ti lascio il link giù nella descrizione vediamo per il mese di novembre scorpione mese di novembre segno dello scorpione andiamo a vedere un po cosa dice scorpione novembre come trascorrerà il mese di novembre lo scorpione prima carta guarda l'anima gemella ok l'anima gemella e come sta carta mi fa impazzire con queste orecchie dritte ok e i pettegolezzi quindi qui ci può essere proprio effettivamente un qualcosa dobbiamo cambiare la candela senza candela ci posso stare e stavo dicendo un qualcosa che potremmo venire a a sapere che riguardano che riguarda quest'anima gemella che riguarda questa persona a cui noi siamo senz'altro molto legati però abbiamo visto dalle stelle dall astrologia che qui c'è una persona o più di una per l'amor di dio comunque una persona in particolare con cui passeremo dei momenti insomma anche no di di diciamo di di divertimento ecco questo lo abbiamo visto e ci viene ci viene adesso confermato ma vediamo anche e poi ci sono come stavo dicendo dei pettegolezzi quindi un qualcosa che potremmo venire a sapere riguardo questa persona ma vediamo anche gli oracoli dell'amore che non parlano ovviamente solo d'amore vediamo cosa hanno da dire per il tuo segno vediamo scorpione novembre feste eventi e divertimento e lo abbiamo visto lo abbiamo appena detto quindi senz'altro ci sono anche dei divertimenti delle uscite no con degli amici con chi ti pare nascondere i problemi quindi sicuramente c'è un qualche cosa che bolle bolle dentro però come dire no magari mi rego vado a a divertirmi per non pensarci un qualcosa di questo tipo cioè c'è sia una cosa sia l'altra però guarda non preoccuparti tutto si aggiusterà quindi insomma qui le arte ti vogliono come dire ti vogliono guarda ti vogliono far star tranquillo scorpione qualcuno ha una cotta per te desidera intimità fisica con te quindi qui tu mi apisci qui c'è qualcuno che ti desidera assai ed effettivamente qui c'è un'anima gemella quindi ecco va bene quindi una persona che ti desidera e vorrebbe diciamo così insomma con conoscerti meglio mi viene da dire va bene ok andiamo a vedere con i tarocchi cosa hanno da aggiungere a questo quadro allora novembre segno zodiacale dello scorpione mese di novembre ok vediamo scorpione mese di novembre prima carta il cavaliere di coppe ok vediamo cos'altro scorpione novembre il no è bella cavaliere di coppe nove di denari il 3 di spade 3 di spade l'otto di coppe qui non si sa bene scorpione e il fante di spade guarda qui tu vieni a sapere di un qualche cosa il cavaliere di denari qui ci sono delle notizie delle comunicazioni che sicuramente arriveranno un qualcosa ora vediamo anche le sibille chiacchierine un qualcosa di cui tu vieni a conoscenza io vedo qui di questa persona come se tu venisse a sapere un qualche cosa di importante di questa persona persona che potrebbe stamma a sentire essersi allontanata o essere comunque lontana da te per un motivo x ok una persona che magari non si è più fatta sentire senza un motivo apparente è semplicemente così puff una persona che si è dileguata senza un apparente motivo ok che si potrebbe sicuramente a riavvicinare in un certo modo qui c'è proprio una come ti posso dire più che avvicinare come ti posso dire potresti venire a conoscenza di un qualche cosa di questa persona magari è una persona che desidera che ti desidera che ti vuole che ti pensa ancora però potrebbe ancora rimanere lontana da te qui però le carte già ti fanno vedere al futuro ti dicano guarda anche se potrebbe essere un momento un po così 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 e cosa stai tranquillo scorpione perché la situazione con questa persona si aggiusterà qui già te lo dicono nel mese di novembre fanno vedere sicuramente le uscite i divertimenti non mancheranno quindi qui l'occasione per uscire insomma divertirti qui scorpione tu ce l'hai sicuramente diciamo che nello stesso momento però no spero senza però ci fanno vedere anche un qualcosa che tu potresti venire a sapere ok di cui tu verrai a conoscenza i fette golezzi sono questo va bene che tu vieni a sapere di questa persona di questa persona che loro mi identificano come anima gemella intesa comunque come una persona con cui tu hai un rapporto di un certo tipo insomma ecco quindi praticamente se novembre sarà un mese insomma un po così stai pur tranquillo scorpione che le cose si aggiustano anche perché insomma qui le carte sono abbastanza chiare qualcuno ha una cotta per te ti desidera sia che tu sia uomo sia che tu sia donna per l'amor del signore va bene andiamo a vedere anche le le civile chiacchierine le fettegole vediamo cosa hanno cosa hanno da dire per il segno zodiacale dello scorpione mese di novembre cosa accadrà nel mese di novembre ok la donna di servizio ok cosa accadrà allo scorpione teniamo nel mese di novembre la donna di servizio il bel vedere il dispiacere la sorpresa e l'amore vedi qui c'è un po e la fortuna quindi qui c'è un po un po che è la stessa cosa che ci stanno dicendo qui e che ci hanno detto le stelle con l'astrologia con questa opposizione di giove urano dal toro quindi qui un qualcosa nei rapporti c'è una qualche tensione una qualche incomprensione una qualche gelosia i problemi che magari si nascondono non si vogliono vedere cioè qui qui un qualcosa un qualcosa c'è ok c'è ci potrebbe essere questo allontanamento e via dicendo nello stesso tempo però quelle carte si stanno dicendo guarda che le cose si aggiusteranno magari non a novembre ma si aggiusteranno ok ecco questo è il messaggio che ti voglio far che ti voglio far passare va bene scorpione poi tu mi racconterai giù nei commenti quindi potrebbe anche esserci un pettegolezzo una qualche chiacchiera che ci può dare un po fastidio con questo dispiacere va bene qui ci potrebbe anche ci potrebbe anche arrivare però poi c'è anche la sorpresa e l'amore quindi sicuramente quelle cose si andranno ad si andranno a sistemare e quello che vedo ricordato qui ci sono anche delle uscite dei divertimenti a cui tu parteciperai e anche questo è molto importante va bene scorpione ma fammi sapere giù nei commenti quello che effettivamente tu vivrai e tu stai vivendo va bene io ti aspetto qui ci si vede al prossimo video mi raccomando è ciao ciao